E adesso eseguiremo un brano appunto in prima esecuzione. Un brano molto breve, dura 6-7 minuti, ma è estremamente denso di contenuti. Già si parte dal titolo che è davvero speciale, C19, Codio 19. È un brano della compositrice, pianista jazz Stefania Tallini. Un brano nato un po' per caso, un brano nato da una chat così per caso. Come sta? Beh, è saltato fuori questo pezzo. Amarano ha scritto il pieno periodo Covid, naturalmente durante il secondo lockdown, e che narra un po' il percorso di come Stefania ha vissuto questo percorso, quindi c'è una certa inquietudine in questo pezzo, dalla prima all'ultima nota. Un'inquietudine però velata di armonia e jazz, e non solo jazz, di ritmi davvero particolari, molto complicati. In questi sei minuti c'è davvero un po' tutto quello che Stefania voleva raccontarci della sua esperienza in questi periodi. Il bello è stato che, ripeto, è stato un pezzo nato su una chat per caso, e appena l'abbiamo letto abbiamo detto, ci piace, è quello che noi volevamo. Quindi proprio c'è stato un collegamento al di là delle parole sul tipo di brano che noi avremmo desiderato, e alla fine è stato esattamente questo. Quindi, di Stefania Tallini dovrebbe anche essere presa in inizia. Eccola! Comunque Stefania è qui con noi, e appunto a voi, in prima esecuzione, in questo C-19. Comunque Stefania è qui con noi, e appunto a voi, in prima esecuzione, in prima esecuzione, in prima esecuzione, in prima esecuzione. Comunque Stefania 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 Comunque Stefania